Il consorzio Pesaro Basket, che possiede il 100% delle quote della VL, da oggi è pronto ad accogliere un nuovo socio. Si tratta di STR Automotive, azienda pesarese situata in strada della Fabreccia, che opera nel settore del lusso automobilistico. Una nuova società che entra a far parte del consorzio, la prima sotto la presidenza di Franco Arceci, diventando il 27esimo socio che si aggiunge ad un roster di aziende determinate a destinare risorse a supporto della VL. Noi operiamo nel settore dell'automotive, in particolare nella fascia alta del mercato, quindi forniamo i brand un pochino più importanti. I numeri della nostra azienda si traducono velocemente, abbiamo 4 stabilimenti, circa 400 persone impiegate nelle nostre strutture, circa 70 milioni di fatturato. La cosa che ci permette di sostenere il nostro sviluppo, la nostra crescita, che stiamo continuando ad alimentare, è la volontà di cercare innovazione, di migliorare il prodotto, di migliorare il servizio e di un pochino in maniera presuntuosa, lo premetto, ma non vuole essere questo il sentimento, di cercare di anticipare un po' quelli che sono i cambiamenti che il mercato sta presentando. Questo è un momento incredibilmente stimolante, abbiamo la transizione energetica, i nuovi concetti di sostenibilità, un nuovo concetto di welfare per continuare ad avere appeal sul mercato del lavoro con i dipendenti, che sono forse il fattore più importante che abbiamo in azienda, le risorse umane. Speriamo di poter, all'interno del consorzio, dare un pochino di quella che è la nostra impronta nella conduzione dell'azienda e quindi di cercare di invogliare anche gli altri consorziati a fare qualche ragionamento, non solo sul presente, ma anche magari guardando un pochino in avanti. La presentazione del nuovo socio è stata anche l'occasione per fare il punto sul mercato fatto fino ad ora dalla VL, tra conferme e nuovi acquisti, ma anche per parlare di ambizioni e aspettative per la prossima stagione. Grazie allo sforzo della società, dello sponsor e dei consorziati siamo riusciti ad arrivare al punto di equilibrio e convincere Matteo e Carlos a rimanere con noi e soprattutto a portare un giovane di grandissima prospettiva come Visconti, che ha un talento da sviluppare veramente molto molto intrigante e uno dei giocatori più esperti del panorama italiano, Valerio Mazzola, che come sapete ha vinto tanto con Venezia ed è pronto a portare la sua esperienza, le sue caratteristiche tecnico-tattiche al servizio della nostra squadra. Siamo altrettanto soddisfatti dei due stranieri che abbiamo firmato finora. L'ultimo è Mars, è un giocatore di sistema, ci piace definirlo così perché può essere pericoloso soprattutto quando attacca il ferro creando in avvicinamento soluzioni per se stesso e per i compagni, ma allo stesso tempo è veramente bravo a creare vantaggi che sfruttano i compagni di squadra sul perimetro e in area con il suo penetra e scarica. E poi ci sarà Lampopoulos, altro giocatore con una grande scuola, un atleta con talento tattico enorme, un ottimo tiratore, versatile. Il campionato ha delle forze che sono abbastanza chiare. Per il resto ci sarà una guerra enorme, molto livellata, tra squadre che possono entrare nei play-off, nelle finale di campionato, ma rischiano anche di lottare per la salvezza. Ecco, noi dovremmo cercare di far parte all'interno di questo gruppo, facciamo parte di sicuro di questo gruppo, cercare di stare al vertice di questo gruppo, ma sarà una battaglia enorme raggiungere questo obiettivo.